La cultura viaggia via mare, conclusa la diciottesima edizione di Un Libro Sotto le Stelle, la manifestazione a sostegno della divulgazione editoriale organizzata dall'Associazione Meridiani, con il sostegno della Fondazione Campania de Festival e il patrocinio della Regione Campania. Originale location per l'ultimo dei sei incontri letterari, il traghetto Aquarius della compagnia Travelmar, salpato dal porto di Salerno e attraccato sull'isola di Procida, capitale della cultura 2022. Una formula per diffondere il piacere della lettura, che mette insieme cultura e turismo, come spiega Franco Piccarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. La Travelmar ha messo a disposizione i suoi traghetti, che ha sponsorizzato questa iniziativa, l'Associazione Meridiani ha avuto questa splendida idea, diciamo che è un progetto sicuramente vincente da sviluppare, perché consente veramente di raggiungere tutti gli obiettivi. L'iniziativa è stata realizzata insieme con la Fondazione Campania de Festival, un'intesa che andrà avanti anche in futuro, come conferma Alessandro Russo, segretario generale della Fondazione. Speriamo che sia la prima di una lunga serie di collaborazioni e che insieme si possa andare lontani. Entusiasti gli autori Teresa Esposito, con il suo hashtag Alimentazione 4.0, e Gianluca Mazzini, con il suo libro dedicato ai prossimi mondiali in Qatar, con tutti retroscena sulla scelta, quantomeno inconsueta, del paese che ospiterà l'evento internazionale. È stata un'esperienza fantastica, veramente meravigliosa, questa di poter salpare praticamente dal porto di Salerno e arrivare fino a Procida, capitale della cultura, per poter parlare di hashtag Alimentazione 4.0. Ho potuto parlare del mio libro sul Qatar, Qatar 2022, un mistero mondiale, lupetti editore. Si parla di Qatargate, di una grande tangente che è stata pagata per ottenere questo.